i ragazzi benvenuti nel nuovo contest siamo arrivati al contest di settembre le ferie sono finite per tutti quanti siamo qui nel nostro studio scala pronti per scoprire chi sono i vincitori oggi siamo in tre in questo contest c'è la chiara e c'è mister ventù ciao ragazzi è stato piacere ritrovarvi questa scalacchiociola in realtà stavolta c'è uno spareggio perché due persone hanno avuto gli stessi voti lo stesso numero di voti hanno avuto 26 voti sia davide visconti con questo scatto e simone giglio quindi andrei subito a commentare gli scatti dei winner andare a capire perché hanno vinto ecco il primo winner allora mi piace molto il bianco e nero perché è ben contrastato e soprattutto mi racconta una situazione a me l'impressione mi dà a me che il suo scatto è come se fosse una ragazza che qua l'aeroporto che sta aspettando l'aereo e quindi era lì in attesa di uno scatto un po rubato sia anche il bianco e nero ci sta fosse stata a colori probabilmente non avrebbe esaltato così è vero ugualmente e il collega mister ventù da lassù il bianco e nero è veramente ben fatto è sempre rischioso fare il bianco e nero come ci insegna mister Walter White uno sguardo rubato come diceva uno scatto rubato e passiamo a commentare il secondo quindi questo via più uno scatto un ritratto anche se molto particolare secondo me qui gioca un ruolo fondamentale la luce che in questo caso risalta sia in tratti del viso e lineamenti anche le le rughe no è anche il fumo risalta questo è suo padre uno scatto anche molto intimo il fumo risalta o si vede poco i segni del tempo secondo me ma sono risaltate tutti i dettagli del viso e quello è il punto forte della foto secondo me molto bello a me piace che la figura sia di profilo e soprattutto una cosa che mi piace molto sono queste cose rossi non so però danno un tocco di colore sembra quasi dipinta secondo me si sembra quasi un dipinto esatto bella la luce appunto anche l'effetto diciamo del fumo bella la posizione della luce come già detto belle queste ombre come diceva giustamente Walter è un dipinto mi piace molto questa foto perché la sigaretta fumata magari la sera dopo il lavoro la stanchezza del lungo del viso della stanchezza la sigaretta e tutti a letto quindi bene un momento di relax intimo quotidiano e nel quotidiano è possibile andare a catturare questi momenti quindi quotidianità però voglio parlare con una special mention di una foto che a me è piaciuta veramente particolarmente e quindi voglio vedere se i miei colleghi condividono la mia idea la foto numero 21 secondo me è veramente bella c'è un'atmosfera mistica lost in the fog la chiamerei questa foto guarda che sei un amante della fog e dimmi che ne pensi di questo scatto sembra una copertina di un film di un videogioco the last of us dov'è riuscire a convincere bella perché altro che c'è questa nebbia con questa luce dietro è una bella composizione è seguito la regola dei tensi forse lo renda appunto la tonalità io sinceramente avevo tipo di saturazione forse questo giallino non sa tanto di nebbia esatto e appunto anche il fatto che ci sia questo albero sulla destra più scuro rispetto agli altri metà che questo effetto di profondità è insomma interessante passiamo subito a vedere i 30 partecipanti di questo episodio vai con le foto e come ti You don't love me I'll just make you rich I am waiting For your mind to glitch And decide It's time to change You don't love me But I'll make you switch You don't love me I'm waiting for you 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 I'm waiting for you